Numero 8 Il calotto Il calotto Il calotto Anche sempre È poco È poco Grazie. Igen, Igen. Faccio il giro attorno tu. Hm? C'è tutto? C'è tutto? Inizia tanti doveva? C'è tutto il reale? C'è il merco che d'ho. C'è quel che si chiedi il video che abbiamo visto l'UNCAN? C'è questo? Questo è molto bellissimo. la nostra cura, il chatone... è come se le persone che stesse... No! la pomara, la pelle, la pelle... la pelle... la pelle... i muscoli sono molto utili... la casa vuole per questo, va beh, non per lei... è troppo... la pelle... la pelle... Però tu cosa dici? Troppo? Troppo? Troppo. Come tu. È molto... È molto... È come un mastino. Quello? E ma... Quello? I miei... Io ho due modi. I miei tagli sono colori. Però sono più... Che problemi? Vabbè, la testa è arrivata. Anche la problemi? Allora... Allora... Che età? Sette anni, soggetti un tipo. Ma... D'Alessandro. Non ti piace il colore? Il colore è meno. Ma... Sai? Quello è un bel cane. Questo... Questo... Però... In Inghilterra... E... In Francia... Apprezzato... Questo montello. In Germania? No, ma anche l'inglese. Hai visto quel cane che ha vinto... Graff. Quello è storico. No. Sono le luci... Sono le luci che fanno... Io, quello che ho fatto... L'avevo anche accarazzato. E' divertitissimo. Non è il miglio ideale. Perché per me... Ha una testa molto pesante... Ma anche allegata... Un cane è da solo veramente... Spettacolare. Si fa vedere... Si diverte un sacco nello stesso. Ma gli inglesi... In Francia... Avevano... Una figlia di Tonga... Si... Molto grande... Molto grande... Non è andata bene. No, abbiamo... Abbiamo...